Si è svolta presso la sede dell'Oasi di Via Gorizia Torino la serata in memoria di Donaldo Rabino. Presenti, oltre a tantissimi appassionati Granata, ex giocatori Silvano Benedetti, Salvadori, Antonino Asta ed altri che si sono collegati come Alessandro Gazzi, Eraldo Pecci e tantissimi altri amici che hanno voluto dedicare un minuto in memoria di Donaldo Rabino, tra tutti il ricordo anche di Clara Mondonico. Naturalmente noi eravamo presenti, la serata è stata condotta da Beppe Gandolfo insieme a Claudio Vettino e a Clara Vercelli, il miglior modo per farsi gli auguri ricordando sempre tutte le opere che Donaldo ha destinato ai giovani e a chi soffre, l'Oasi Maen e il Laura Vicugna.